Lo sapevate che la nostra terra ha compiuto quattro miliardi e mezzo di anni e se potessimo paragonare questo enorme tempo a una sola giornata potremmo dire che nelle prime ore la terra si raffreddò e nell'acqua cominciò la vita sotto forma di grosse molecole All'alba sulla nostra terra si formò l'atmosfera ma solo al tramonto apparvero sempre nell'acqua le prime forme di vita più complesse Le piante e i primi animali colonizzarono la superficie terrestre intorno alle 10 di sera Alle 23 comparvero i dinosauri e i fiori sbocciarono solo mezz'ora prima della mezzanotte Alle 23.40 apparvero i primi mammiferi Due minuti prima dello scadere della mezzanotte fu la volta dei primi ominidi, i nostri più antichi antenati e solo due secondi prima della mezzanotte nacque finalmente l'uomo che in così poco tempo ha trasformato così tanto il nostro pianeta